Cosa c'è di più piacevole che mettere via le scarpe chiuse e iniziare a mettersi sandali, infradito o stare a piedi nudi? Finalmente i piedi respirano, sono liberi e non è solo piacevole ma anche sano. Quando i piedi sono chiusi nelle scarpe si crea umidità e questo è terreno di coltura per batteri e muffe. Lo sapevate no? La naturopatia ci spiega. Se non laviamo questi microorganismi ogni sera, durante la notte attaccano la pelle e l'organismo e impegnano continuamente il sistema immunitario. Inquietante, non ci avevo mai pensato, cosa dobbiamo fare? Ecco cosa fare. Ogni sera prima di andare a dormire e fare un pediluvio di 3 minuti basta mettere un cucchiaio di bicarbonato in 2 litri di acqua tiepida, non troppo calda e immergere i piedi. Con l'occasione chiudiamo gli occhi, respiriamo a fondo e ci rilassiamo. Che ne dite? Così diventa un trattamento spa completo. Puoi asciugare bene e applicare una crema o una polvere con oli essenziali naturali. I migliori? Timo e tea tree oil. È anche un modo per combattere o prevenire micosi e avere piedi perfetti. Se ami la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano. Naturalmente, ciao!